Ministero dove sei? Lo chiedono non esplicitamente FIOM, CGL e Wilm, prendendo spunto dall'incontro svoltosi mercoledì scorso a Palazzo del Pincio sul Post Carbone. Un incontro giudicato positivo alle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici di CGL e Wilm, nonostante il silenzio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che aveva parlato di una riunione a Civitavecchia per i primi giorni di settembre, che però non si è mai svolta. FIOM e Wilm rilevano che dall'incontro di mercoledì scorso è emerso che ad oggi un solo progetto, dei 5 di cui si parla, è stato presentato ufficialmente con dettaglio e a quanto sembra non alcuna attinenza con l'esigenza di ricollocare gli oltre 500 operatori metalmeccanici specializzati. Per i due sindacati è preoccupante il silenzio da parte del Ministero, anche perché lo stesso sembrava avere molta fretta al punto da spingersi a chiedere un parere definitivo al territorio già a luglio, cosa ovviamente non possibile ed anche con poche e confuse slide non sono sufficienti. Confuse secondo FIOM e Wilm perché ad esempio, e ancora non è dato sapere, come sia possibile realizzare più progetti che insistono su una stessa area e per le due organizzazioni sindacali, basta questo per rappresentare quanto poco comprensibile sia la situazione, senza considerare la questione delle questioni, ovvero che non tutti i progetti collimerebbero con l'orientamento unitario del territorio, né soddisferebbero in termini numerici tutte le maestranze da ricollocare e né vi sarebbe un indirizzo industriale corrispondente ai profili professionali di gran parte del personale dell'indotto. Sulla posizione di Enel per firme Wilm c'è poco di nuovo da dire, se non che territori e lavoratori meriterebbero ben altro tipo di impegno rispetto al ruolo da facilitatrice, che la dirigenza della S.P.A. energetica ritiene di stare svolgendo e che ha meno del minimo sindacale. Per questo i due sindacati chiedono perché la prossima volta riunione sia convocata dal ministro il prima possibile e deve vedere al tavolo almeno anche Enel, Autorità Portuale e Invitalia. Ministero e Governo per CGL e Wilm hanno il compito di dimostrare di saper passare dalle parole ai fatti nel rispetto di un territorio che ha già tanto dato agli interessi del Paese.